Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale La Vita in una Comunità Psichiatrica. È da un po' di tempo che non carico nuovi video perché sono stato molto impegnato con il mio lavoro, con il servizio civile. Ora sono tornato. Prima di iniziare a parlare dell'argomento di oggi, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace al canale, di iscrivervi e se volete di abbonarvi al prezzo modico di 1,70€, no 3€, 3€ al mese. Se volete. E ora non perdiamo altro tempo, partiamo subito con il video. Oggi vorrei parlarvi in pratica delle difficoltà a livello di relazioni con gli altri che sperimentano molti pazienti psichiatrici. Nella seconda parte invece vi parlerò di alcuni consigli che possono attuare i pazienti psichiatrici per avere delle relazioni umane migliori. Iniziamo a vedere le difficoltà che sperimentano queste persone. Innanzitutto, come vi ho già parlato in un altro video, c'è lo stigma sociale. Le etichette sociali che vengono messe intorno ai pazienti psichiatrici possono portare a isolamento, a emarginazione di queste persone, rendendo difficile creare connessioni significative. Inoltre, un secondo motivo è la mancanza di comprensione. Le persone intorno al paziente potrebbero avere difficoltà a comprendere, a capire e a conoscere la malattia e la situazione del paziente, semplicemente perché non sanno bene di cosa si tratta. Perciò è importante, secondo me, il lavoro anche di questo canale, che il suo obiettivo è proprio quello di diffondere la consapevolezza e la conoscenza delle malattie, in modo che la gente possa avere una maggiore comprensione del disagio provato da queste persone. Il terzo motivo è la dipendenza emotiva. Parecchi pazienti, dato che hanno sempre bisogno di aiuto da parte di qualcun altro, si legano in modo morboso e eccessivo ad altre persone, cioè diventano dipendenti da altri emotivamente. La quarta ragione che accomuna i pazienti psichiatrici è la paura del giudizio. La paura del giudizio può portare a difficoltà nell'aprirsi con gli altri, nel condividere le proprie esperienze, nel parlare apertamente. Un altro motivo ancora sono l'instabilità emotiva, cioè le fluttuazioni dell'umore, che sono dovute anche alle malattie stesse, provate dai pazienti. Queste fluttuazioni possono portare a incomprensioni con le persone, a una difficoltà nelle relazioni con gli altri. La difficoltà nella comunicazione è un altro motivo. In pratica, anche sempre a causa di alcune malattie, come la schizofrenia che ho io, a causa dell'uso eccessivo di medicinali, si possono avere difficoltà a comunicare, proprio a parlare, sia perché a livello di linguaggio, a livello di formulazione del linguaggio si è un po' compromessi a causa della malattia, ma anche perché a livello di pensiero si hanno delle difficoltà, non si riescono a formulare dei pensieri chiari. Poi abbiamo un altro motivo, che è quello di auto-isolarsi. Parecchi pazienti, per paura dello stigma, per paura delle incomprensioni da parte degli altri, per paura del giudizio altrui, tendono ad isolarsi. Potrebbero addirittura evitare rapporti sociali volontariamente, quindi fare una vita di isolamento auto-imposto. Sono loro stessi ad isolarsi dagli altri, per paura di tutte queste conseguenze. Questa qua era la prima parte del video, in cui abbiamo visto sette problemi relazionali che riguardano i pazienti psichiatrici. Ora, nella seconda parte, vedremo altrettante soluzioni. Darò alcuni consigli ai pazienti, alle loro famiglie, su come migliorare la loro vita sentimentale, relazionale, amicale, affettiva con gli altri. Prendete le mie parole come consigli, da parte di un paziente, che ha vissuto sulla propria pelle il disagio psichico. Non prendete le mie parole come consigli medici, perché non sono un professionista della salute mentale. Quindi, rivolgetevi sempre a uno psichiatra, a uno psicologo e altre figure professionali. Ora vediamo sette soluzioni a queste difficoltà. Il primo consiglio è cercare di avere una comunicazione aperta, cioè cercare di evitare, evitate di nascondere, di reprimere le vostre emozioni negative, parlate delle vostre emozioni con gli altri, apritevi, poiché la comunicazione aperta favorisce legami più solidi con le persone e una maggiore comprensione. Il secondo consiglio è evitare di dire sempre sì. Quando è il caso, dite di no, stabilite dei confini sani con gli altri, in modo da evitare di sentirvi sopraffatti. Comunica chiaramente i tuoi limiti agli altri, in modo da garantire che questi limiti vengano rispettati dagli altri e non vengano oltrepassati. Il terzo consiglio è lavorare sull'accettazione di sé. Lavora sulla consapevolezza di te stesso, accettando le tue peculiarità, la tua unicità. Unicità. Riconosci che la salute mentale non determina il tuo valore e che tutte le persone hanno delle sfide da affrontare. Il quarto consiglio è coinvolgiti in attività sociali. Partecipa a gruppi o attività, insieme con persone che abbiano interessi simili ai tuoi, in modo da favorire nuove conoscenze, nuove opportunità di relazione. Non bisogna essere bravi soltanto nel comunicare, cioè nel parlare, ma anche nel ascoltare. Bisogna imparare ad essere ascoltatori attivi. Presta attenzione quando gli altri parlano, sviluppando empatia e interesse verso quello che dicono gli altri. Fai domande e rifletti su ciò che gli altri hanno detto, dimostrando in questo modo che ti interessa ciò che dice l'altro. E in questo modo valorizzi le loro esperienze e le loro emozioni e le altre persone sono più propense a intrattenersi con te. Il sesto consiglio è quello di costruire gradualmente le proprie relazioni umane. Non bisogna sentirsi in fretta di costruire legami profondi. La costruzione di relazioni richiede tempo e pazienza. Inizia con interazioni leggere e quando ti senti più a tuo agio, approfondisci le conoscenze. Il settimo consiglio, come vi ho detto prima, è quello di rivolgersi a un supporto professionale. Devi sempre consultare uno psicologo o un terapeuta se hai delle difficoltà emotive. Inoltre, il supporto professionale può darti anche degli strumenti specifici per migliorare la qualità delle tue relazioni. Infine, un altro consiglio è quello di coltivare l'autonomia emotiva. Cioè, come abbiamo detto prima, non bisogna dipendere dagli altri emotivamente. Non bisogna legarsi troppo, in modo morboso, eccessivo, agli altri, ma essere autonomi. Quindi, per fare questo, bisogna imparare a gestire le proprie emozioni. E poi bisogna sviluppare la capacità, la capacità di affrontare autonomamente le sfide emotive. Ok, ragazzi, questi qua erano sette problemi e otto consigli per quanto riguarda le relazioni umane nel caso di pazienti psichiatrici. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se potete, condividetelo sui social, su Facebook, su Instagram, a tutti i vostri amici, anche su WhatsApp, in modo da aiutarmi sempre di più a crescere e a diffondere le consapevolezze sulla salute mentale. Vi lascio, prima di lasciarvi, vorrei farvi un paio di annunci. Se volete, se potete, se avete la possibilità, potete aiutarmi nei miei progetti, nei miei studi, nelle mie ricerche per questo canale tramite una piccola donazione a piacere sulla mia pagina Paypal che ora vi lascio in sovraimpressione. Vi lascio il mio indirizzo Paypal, potete donare un euro, due euro, quello che volete, una cifra a scelta vostra se vi piace il mio lavoro. E inoltre, a coloro che mi daranno la donazione, io invierò il mio libro Troppo Soli Oggi, un libro di 35 pagine. Vi ripeto ancora, iscrivetevi, mettete mi piace e condividete. Ragazzi, è sempre un piacere avervi con me a guardare questi video. Sono davvero contento del vostro sostegno, mi aiutate anche ad affrontare la mia malattia in modo migliore. Io credo che sto aiutando voi, ma anche voi aiutate me. Grazie mille, un bacio, ciao.